La partenza è stata buona, poi sono stato un po' male perché ho avuto la disenteria per tre giorni, comunque adesso ci stiamo riprendendo e speriamo il meglio per la terza settimana. Oggi il tracciato all'inizio è un po' impegnativo, poi è abbastanza piatto, si prevede un arrivo in volata, solo che il tempo è un po' brutto, piove. Abbiamo cercato di vestirci al meglio, guanti lunghi, copriscarpe, mantelline per cercare di soffrire meno il freddo. Il numero 4 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti